Eravamo in prefettura, c'era questa riunione, abbiamo proseguito per la verità nei nostri lavori. Si è sentita abbastanza forte perché l'epicentro credo che sia stato a Pizzo, mi hanno informato. Le scuole credo che abbiano di loro un piano di sicurezza che devono attuare quando si verificano eventi di questo genere. E credo che i dirigenti, gli insegnanti siano stati abbastanza veloci e lo abbiano attuato. Si si è sentito forte, è tramato tutto, siamo ballati tutti. E a quel punto si è usciti tutti fuori? Si si si. Che sarà l'epocazione del municipio? Siamo un'oretta fuori e si ritorna a lavorare. Io togli il senetto in cammino a cavanza. Il centralista dice che si porta una prolunga per toccare il telefono fuori e lavorati fuori. Si è iniziato a vibrare tutto, lampadare, scrivania, sedie, si è sentito proprio un movimento. Dopodiché siamo usciti subito fuori. E' nulla. Per fortuna sembra che non abbia fatto comunque danni. E' la prima volta che mi capita di sentirlo così forte. Per fortuna è durato pochissimi secondi, ma il primo pensiero è andato ai bambini che erano a scuola. Insomma siamo scappati, siamo corsi per accettarci che non fosse accaduto nulla. Per fortuna sembra che la città non abbia avuto particolari danni. E quindi ritorneremo alla vita ordinaria nella speranza che non ci siano nuove scosse. Ho sentito, ma voglio ringraziare il personale docente Ata che in tutti i seplessi è stato eccellente. In tempi record ha fatto evacuare la scuola mettendo in salo i bambini e se stessi. Per la scuola Don Bosco devo segnalare una grave problematica a livello di piano d'emergenza. Questa piazza è piena di macchine e non solo come parcheggio ma come transito in entrata e in uscita. Quindi io questa mattina mi sono trovata nella condizione di dover fare, di fermare il traffico da una parte e dall'altra per mettere al sicuro i bambini.